Penso che sicuramente l'utilizzo di un software interno all'azienda o della internet aziendale stessa, piuttosto che di una casella email, sia che sia aziendale ma anche extra aziendale, non sia in grado di garantire efficacemente la riservatezza e in alcuni casi, quando richiesto, anche l'anonimato del segnalante. Questo chiaramente non pone la società in un'ottica di rispetto della normativa, quindi io consiglio sempre ai clienti per i quali informiamo degli organizzativi di dotarsi di un software esterno. Un'altra peculiarità che a mio avviso i software esterni debbano garantire è quello di permettere una sufficiente interlocuzione tra l'organo di controllo o comunque chi riceva le segnalazioni e il segnalante, perché molte volte diventa molto difficile far comunicare il segnalante e il local di controllo. Per questo mi sono trovato benissimo con il software di MyGovernance perché se non erro, l'unico o comunque uno tra i pochi che riesce a garantire questa facile comunicazione tra le parti.